che cos'è? è un volo questo qua mammo eccolo Miguel è il mio è il mio uno dietro no però non penso sia il tuo quello lì è il suo rio bravo rio 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 sono qua rio 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 si perché lui non penso sia il tuo rio 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 carina rio rio cuir italiani signor salvi buongiorno in diretta ci dica qualcosa è una show meraviglioso da favola con il gruppo volo libero abbiamo il grande meso che la mascotte del gruppo che è fly otto mesi di alla grande poi con tutti questi belli amici meglio di così direttamente dal set di dindon non potevo esimermi presente grazie domani mi raccomando certo ci faccio vedere vada vada macchina pausa no no ferma macchina aspettate che passa ciao fly lo sai che sarà mascotte di volo libero italy ciao siete pronti aspetta la macchina ferma la macchina non farlo passare aspetta ferma la macchina un attimo aspetta la macchina aspetta la macchina si va bene a questi sono queste sono schegge ragazzi mig il mio amico presa l'ho presa tutto